Musica Che si protrae da circa vent'anni, da quando ho iniziato a pubblicare i miei libri assieme al professor Cavalcanti che è qui in sala e che ovviamente saluto con grande affetto. Ora, oggi il rapporto si è consolidato e stiamo facendo delle cose anche molto belle. L'ultimo lavoro è Paesi di Calabria, un volume che sta riscuotendo un sacco di successo, non solo in Italia ma anche all'estero. Recentemente abbiamo vinto un bando regionale per la realizzazione di una grande mostra itinerante che parte dall'Italia, toccherà parte dell'Europa del Nord e arriverà addirittura in Nord America. Quindi per la presentazione di un lavoro, un libro, ma più che di un libro, di una Calabria che è quella che cerchiamo oggi di spiegare, che a mio avviso dovrebbe essere maggiormente conosciuta. Sia nella sua dimensione colta, come solitamente si fa, chiese, palazzi, castelli, eccetera, ma sia soprattutto anche nella dimensione popolare. Perché la Calabria è una regione fortemente concretata da una cultura popolare che ovviamente si ripercuote e si riflette anche nel mondo delle costruzioni, anzi parte dal mondo delle costruzioni perché lo spazio è proprio il luogo su cui poi attecchisce la cultura. Di conseguenza il popolare che in tutti questi anni è stato un pochino forse anche deriso, oggi riscuote un grande successo, anche perché ci sono organizzazioni internazionali, tra cui l'UNESCO, che ovviamente ci aiutano in questa direzione. Il mantenimento e la preservazione degli aspetti della cultura di una comunità, di un popolo, sia nella dimensione colta che nella dimensione tradizionale, sia per quello che riguarda la materialità di una cultura che per quello che riguarda anche l'immaterialità. Voi calcolate che è preservata la piazza di Marrakesh in Marocco, non dal punto di vista materiale, cioè la piazza intesa come pavimentazione e come edifici, ma come pensieri che circolano all'interno di quella piazza. Quindi provate ad immaginare che cosa bella e nello stesso tempo che cosa complessa. Così come cosa complessa è parlare oggi in mezz'ora di un argomento molto complicato, apparentemente semplice ma in realtà molto complicato. E per farlo, l'immagine è un'immagine di una città che non esiste più, la città di Zungri, scavata nelle rocce, che mette appunto in evidenza quanto nel passato ci siano stati anche interventi quasi di progettualità dell'architettura. Allora, addirittura guardate quanto sono stati bravi a scavare nella roccia delle volte particolari, che ancora oggi insistono e che purtroppo oggi sono state deturpate perché la seconda parte del mio intervento va verso anche un'altra direzione, quella di come questa architettura si mantiene. Sono stati pavimentati con il percorso per arrivare alla città sotterranea di Zungri e pavimentata con piastrelle antiscivolo da cucina. Provate ad immaginare che cosa oggi purtroppo nella nostra regione è possibile anche notare. E partirei con una prima immagine che è quella, forse ne approfittiamo a dire qualche altra cosa. L'argomento è architettura popolare calabrese, anche se forse sotto molti aspetti sarebbe più interessante in un'ottica di conoscenza, in un'ottica turistica, in un'ottica anche di carattere culturale, parlare di urbanistica popolare. Questo perché? Perché l'architettura purtroppo è un'architettura, sia quella colta che quella tradizionale, destinata ormai da anni a essere sempre più maltrattata e degradata. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se voi fate una passeggiata nei paesi calabresi, in realtà voi siete attratti dall'urbanistica e non dall'architettura, cioè dalla forma degli abitati. Che è qualcosa che non viene ad essere cancellata, perché cancellare le forme urbane diventa molto difficile. Cancellare l'architettura invece è molto più facile, perché i 5 mila euro, i 10 mila euro per rovinare una casa, sia pur di matrice popolare, ce l'abbiamo tutti. E quindi voi vi imbattete in tutta una serie di situazioni veramente incresciose da vedere, rispetto invece a quello che poteva essere il passato, anche di 20 anni fa. Molte immagini, che ho iniziato a scattare appunto accanto a Cavalcanti, anni addietro, purtroppo sono immagini di architetture che non esistono più. A testimonianza di quanto appunto il processo distruttivo nei riguardi di una parte della cultura della nostra regione praticamente è stato sempre più alimentato da una sorta di desiderio quasi di raggiungere una modernità sfrenata anche nel popolare. Nel senso che queste tipologie sono state palazzinate, sono state trasformate in qualche cosa che veramente diventa anche difficile spiegare. L'urbanistica invece, l'urbanistica si mantiene e penso sia proprio questo l'aspetto più importante che viene ad essere evidenziato nel libro di cui vi parlava, cioè l'urbanistica è intesa come baluardo culturale. Noi studiando l'urbanistica, studiando le forme urbane, studiando la forma, le aggregazioni e compagnia bella siamo in grado di capire che tipo di cultura ha attecchito in quella determinata comunità. Perché i percorsi, cioè gli spazi dove noi camminiamo, sono quelli che si mantengono, quindi sono quelli che spesso sono antichi di 800 anni, di 700 anni, di 1000 anni. Le architetture no, sia per via della devastazione sia per via anche di altre devastazioni che sono quelle telluriche, dei nostri terremoti che purtroppo hanno buttato giù le case. Quindi voi visitando i paesi vi imbattete in paesi vecchi dal punto di vista urbanistico ma nuovi dal punto di vista architettonico. Tutto ciò ovviamente comunque ha mantenuto un sistema importante fino agli anni 50, dagli anni 50 in poi e soprattutto negli ultimi 20 anni la devastazione è stata veramente terribile. E la cosa più brutta è che noi stessi non riusciamo a riconoscere e a capire questa devastazione. C'è nel senso che noi camminiamo in case, in strutture, in vie, in edificati di cui non riusciamo nemmeno a renderci conto della devastazione stessa. Ora, è un argomento che si presta anche ad una duplice lettura. Nel senso che per poter parlare di architettura popolare bisogna, in qualche maniera, uso un termine non felicissimo, palleggiare due ambiti disciplinari. Quello storico, storia dell'architettura, storia dell'urbanistica, ci sono studentesse, anche ex studentesse del corso di Ilario Principe e in particolare quello antropologico perché il popolare purtroppo non può essere studiato attraverso le fonti storiche. Se noi vorremmo avere notizie su una strada di matrice popolare, le fonti storiche spesso non ci danno questo tipo di informazione. Allora noi dobbiamo essere in grado, attraverso la cerca antropologica, di scendere un po' di più nel dettaglio e quindi capire qualcosa di maggiore determinazione, di maggiore comprensione. L'immagine che vi ho portato è un'immagine di un paese calabrese, non importa quale sia e vorrei che ognuno di voi invece, piuttosto che osservare questa immagine, possa avere e riecheggiare il proprio paese perché le immagini ovviamente hanno sempre un minimo comune denominatore e quello che vi vorrei dire ovviamente appartiene a questo paesaggio ma a qualsiasi paesaggio ognuno di voi porti appunto nella propria mente. La cosa importante è che vedete in tutta questa struttura della fotografia ci sono delle componenti importanti, c'è un paese che ha un rapporto molto forte col territorio, ha una forma che riecheggia un po' la forma delle colline di questo territorio e ovviamente non lo si vede perché poi scenderemo un po' più nel dettaglio, ha un rapporto col territorio per quello che riguarda i materiali costruttivi, per quello che riguarda i profili, le curve di livello, per quello che riguarda diciamo le sagome dell'urbanistica e dell'architettura stessa, ma per quello che riguarda anche la colorazione, i materiali, mettendo in evidenza quanto l'architettura, soprattutto quella popolare, più che l'architettura colta, perché l'architettura popolare è un'architettura che ha come voce ricapitolante un po' la dimensione corale della comunità, è frutto della comunità rispetto alla dimensione dell'architettura colta che invece è frutto di sistemi diversi, sono spesso opere di importazione, noi andiamo a riempire le copertine patinate spesso dei nostri libri con opere che non sono calabresi, spesso si parla di una grande chiesa realizzata con maestranze provenienti e compagnia bella, senza nascondere, per esempio Altomonte, uno dei paesi più citati della nostra, che presenta un'architettura bellissima nella sua articolazione strutturale e stilistica, la chiesa di Santa Maria di Consolazione che però non è opera dei calabresi, nel senso che sono venute maestranze d'oltralpe per realizzare questa, in una dimensione di scambio culturale anche molto interessante ma molto importante, una cosa è certa che però quando noi andiamo a parlare di questo sistema, che cosa ho combinato? Ecco, di questo sistema, quello che vedete in basso, il sistema che vedete in basso è un sistema invece che è frutto di una partecipazione comune, nel senso che, senza farla lunga, è un paese che nasce sulla base delle necessità della comunità, cioè il mastro costruttore che si chiamava Ciccio, veniva ad essere informato da Commare Maria e dal suo marito, il signor Rocco, dicendo, senti io voglio realizzare una casa vicino a quella di mia sorella che abbia certe caratteristiche, che usa certi materiali, che abbia degli spazi affinché io e mia sorella possiamo preparare eccetera eccetera, insieme la conserva eccetera, quindi un sistema che nasce dalla compartecipazione corale in cui il mastro costruttore rispetto ai demiurghi di oggi era soltanto un esecutore della volontà della comunità, quindi quel paese è un paese comunitario, è un paese nostro, le architetture invece simbolo spesso e erroneamente di questo paese, la chiesa, il campanile, il castello e compagnia bella, non sono opera nostra e spesso non sono nemmeno strutture ricapitolanti l'abitato perché intorno a queste si nascondono una serie di motivazioni anche di carattere molto più importante che spesso non vengono evidenziate, per esempio la dimensione sacrale e quant'altro di cui forse in qualche modo parleremo. Quindi senza farla molto lunga questa parte del paesaggio è un paesaggio culturalizzato, non c'è niente di naturale, non c'è naturale nemmeno il mare perché il mare è inquinato, il mare di Pizzo, vi dico subito che ci troviamo a Monte Rosso e quindi il mare è in qualche modo sotto un aspetto può essere considerato anche culturalizzato all'inquinamento. Il lago è un lago culturalizzato perché è un lago artificiale, quindi noi guardando questa immagine ci sono tre elementi di questo paesaggio che dal latino pangere vuol dire recintare, poi spiegheremo che cos'è il paesaggio e che cos'è il paese, ci rapportiamo ad una dimensione importante che può essere in qualche maniera evidenziata dalla dimensione del paesaggio urbano, che è quello del paese, del paesaggio rurale, che sono le case sparse che voi vedete e del paesaggio agrario che apparentemente con l'insediamento non c'ha niente a che fare, ma in realtà non è vero perché tutte le opere di canalizzazione, tutto quello che è stato fatto anche dagli arabi, anche nelle nostre terre è un elemento di culturalizzazione del paesaggio, quindi sostanzialmente noi viviamo in un paesaggio, in un luogo che sostanzialmente viene ad essere modellato dagli uomini, dalla comunità, in un rapporto sinergico con il naturale nel senso che il culturale dà una mano al naturale e il naturale dà una mano al culturale, la stessa cosa che avviene sostanzialmente come tra mente e corpo, non esiste la mente e il corpo, esiste il corpo e la mente che si abbracciano e si aiutano a vicenda. Scendendo di quota, il paese si vede nella sua struttura, quindi qualsiasi paese voi abbiate in mente. Nella sua struttura, che ovviamente può essere spiegata come caratterizzata da tetti in una certa maniera, da intonaci in una certa maniera, da finestre, da una sorta di complessità dal punto di vista architettonico, però noi parlando di architetture popolari, parlando di insediamento, parlando di paesi, dobbiamo non dimenticarci che questa foto si spiega soltanto ed esclusivamente in una maniera. Pensare che all'interno di questa struttura vivono persone, persone che se voi fate silenzio come avviene in questa sala, in questo momento, se voi vi avvicinate è come se sentisse quasi il battito dei cuori delle persone, il vociare, le voci, quanto è importante il rapporto tra le voci e l'urbanistica, poi se avremo tempo ne parleremo. E quindi un sistema che si forma e che si costruisce in base alle necessità di una comunità. Che vuol dire questo? Vuol dire che cambiando la cultura della comunità e quindi il rapporto con i luoghi cambiano i paesi, cambiano le forme, cambiano le forme urbane, cambiano le architetture, cambiano i materiali. Quindi tutto quello che noi andremo ad ascoltare oggi da qui per altri 20 o 25 minuti deve essere rapportato a questa dimensione, una dimensione che ha come base fondante l'opera dell'uomo, della comunità, intesa come sistema sinergico che costruisce spazi antropologici prima e poi geometrici. Perché io prima devo andare a stabilire quali sono i significati e che cosa mi serve uno spazio per poi modellare il capitellino. Quindi lo spazio geometrico è subalterno allo spazio antropologico. Quindi in una dimensione, come dicevo prima, di sinergia tra la storia e l'antropologia è possibile forse capire qualcosa di più dei paesi. Cosa per esempio che non si fa nelle nostre università dove per esempio i corsi di storia dell'architettura e i corsi di storia dell'urbanistica parlano di un'urbanistica colta e non parlano mai di quello che c'è dietro la città, dietro il sistema, come si fa a comprendere un po' sostanzialmente dietro le quinte dell'architettura e dell'urbanistica. Peraltro la nostra realtà non ha un'architettura colta di grande pregio, ma non ha quasi per nulla un'urbanistica colta, al di là di quelle che sono le città ricostruite dopo il terremoto del 1783. Il resto è tutto frutto di una coralità che ha costruito in mille anni 409 comuni di grande diversità culturale e di grande bellezza che purtroppo, come vi dicevo prima, versano oggi in condizioni di grande precarietà. Andiamo molto veloce perché le immagini sono tantissime, cerco di essere il più sintetico possibile. Cosa fondamentale, non esiste un rapporto tra gli abitati calabresi di oggi e la Magna Grecia, se non in elementi di grande peculiarità e specificità, cioè di pochissime masserie che si sono trasformate in insediamenti e di stazioni di sosta lungo i diverticoli, cioè le strade che collegavano lo Ionio col Tirreno, dove piano piano da 3-4 case nasce e si sviluppa un piccolo centro. Tutto quello che è figlio sostanzialmente della cultura classica è come se in 5-600 anni fosse un po' perso. Per ritrovare poi in epoca medievale soltanto resti è una dimensione completamente diversa che è figlia di un nuovo processo di urbanizzazione che si viene a concretare a partire dal 700-800, quando diverse comunità, diverse popolazioni quindi che hanno culture differenti e quindi ci colleghiamo a quello che ho detto precedentemente, hanno duellato tra di loro per imporre la propria cultura e quindi per costruire spazi dell'abitare spesso uno diverso dall'altro. E siccome la Calabria è una Calabria fortemente stratificata dal punto di vista culturale, diversi sono anche gli insediamenti e le forme di queste architetture. Quindi noi ci imbattiamo in insediamenti grecanici, in insediamenti islamici, nessuno ha mai parlato di paesi islamici, la letteratura è avarissima, ci sono realtà che io posso, sulla base di una ricerca fatta, nello Ionio Reggino, Ionio Catanzarese, il Tirreno Cosentino, che sono state fortemente contaminate dalla cultura araba, ed ancora gli Arbresh, le chitonie, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo sistema che ha viaggiato per 5, 6, 700 anni è come se fosse stato dilapidato da un processo di modernizzazione e di adeguamento ad una cultura della modernità che in questi anni ha fortemente cancellato anche le tracce della Magna Grecia. Una regione quindi dalle forti stratificazioni culturali, i colori che voi vedete, rosso, giallo, non dovete interpretarli come diversità politica, ma come diversità culturali. Quindi vuol dire che il rosso esprime una dimensione culturale, che il verde, quello dei musulmani ne esprime un'altra, e che la Calabria, così come l'Italia è suddivisa tra nord e sud, ma anche tra est e ovest, esiste un'Italia dell'est e un'Italia dell'ovest, così come esiste una Calabria dell'est e una Calabria dell'ovest. Una Calabria dell'est è fortemente dominata dalla dimensione orientale e una Calabria dell'ovest è molto più dominata da una dimensione occidentale, poi cercheremo di capire di che cosa si tratta. Paesi quindi che sorgono in base a tutta una serie di situazioni di grande articolazione, l'opera dei monaci basiliani, la possibilità di creare nell'ambito di queste strutture interne una serie di aggregati difensivi che potevano essere in qualche maniera difesi anche dall'acclività e dall'accidentalità dei luoghi, ma qua il discorso si complica, in realtà si costruisce sulle rocce sia per difendersi dai nemici, perché le rocce permettono ai nemici appunto di scivolare nel caso di attacco, ma anche in un'ottica sacrale, cioè io costruisco vicino alla roccia perché la roccia è un elemento di protezione, come una divinità che mi protegge per la sua bellezza, per la sua forma strana e quindi io costruisco vicino ad essa perché la roccia stessa in qualche maniera mi fornisce anche quella protezione che non è soltanto una protezione materiale ma anche una protezione immateriale, cioè gli argomenti sarebbero veramente tantissimi da sviscerare. Una Calabria che già nel 1000 presenta già delle articolazioni molto importanti e una struttura anche stradale che in qualche maniera permetteva il raggiungimento di questi centri, al di là di quella che era ancora la via Popilia e qui Ingegnere Jacino dobbiamo cercare di portare avanti questo lavoro sulla via Popilia, cioè la via Popilia che forse è l'elemento della classicità che si innesta nella nostra dimensione, cioè il rapporto con il classico noi non lo troviamo nelle città, non lo troviamo nei paesi ma forse lo troviamo nei tratti stradali, non è un caso che la via Popilia è quella strada che poi ha dato input alla costruzione della strada statale la 18 e poi successivamente l'autostrada, quindi noi simbolicamente ritroviamo il rapporto col classico proprio attraverso una strada che è stata una strada di grande importanza. Ed ancora urbanistiche diverse sulla base di quello che vi dicevo prima. Vedete, una storia di strutture urbane che ruotano intorno ad un elemento ricapitolante, che poteva essere un castello, poteva essere una cattedrale, quindi con forme affuso che invece poi si differenziano per esempio dalle città islamiche, la città al labirinto. Se voi andate a Belmonte e lasciate la macchina al bordo del centro storico per fare una passeggiata in paese, la macchina non la ritroverete più, ma non perché ve l'hanno rubata, perché vi perdete nel paese, così come vi perdete nel paese di Palizzi, così come vi perdete nel paese di Davoli, così come vi perdevate nel paese di Petilia Policastro dopo lo scempio che hanno rovinato e che hanno in qualche maniera determinato tutti gli amministratori che hanno amministrato la città, una delle città più belle dal punto di vista urbanistico, perché è una città islamica ridotta ad un lamierato di architetture che non si sa manco che cosa. Ciro, la Ciro alta, è una città che funziona come questa. Quindi il problema è che questa conoscenza non è avvenuta, noi abbiamo, e apro una parentesi anche un po' tagliente, forse cattiva, al di là delle eccezioni, siamo stati in grado in 40 anni di sfornare architetti e ingegneri grazie a due grandi università, l'Università Mediterranea e l'Università della Calabria, che hanno poi determinato la presenza di 10, 15 tecnici in ogni paese, che a loro volta hanno determinato lo sfascio che voi potete osservare affacciandovi da qualsiasi finestra, da qualsiasi finestra del centro storico oppure delle architetture moderne, non c'è una struttura che si salva. Forse questa, architetto, questa che avete realizzato. Ok. A volte, ovviamente, io penso che si parlerà poi alla fine del dialogo di educazione al patrimonio, di educazione al paesaggio. Ci sono le regole, ci sono i regolamenti, però bisogna cercare di fornire già a bambini di 5 anni, di 6 anni, nozioni importanti sul paesaggio, perché poi quando si arriva al liceo e si arriva nelle università, si è già caricati per dare un certo tipo di interpretazione a quello che è il luogo in cui poi noi dovremmo abitare e vivere. Vado molto veloce, perché se no le immagini sono immagini di grande spettacolarità, di paesi molto belli, queste squillace, Aiello Calabro, raffigurate in incisioni comprese tra il 500 e il 600, Oppido Mamertina, così come tanti altri paesi che sono stati in qualche maniera fotografati, fra virgolette. Noi riusciamo a capire come funzionavano i paesi calabresi attraverso immagini che vengono ad essere spesso elementi di corredo ad opere più importanti, come per esempio le opere delle Pacichelli e quant'altro, che comunque ci forniscono tutta una serie di indicazioni su quello che potevano essere i nostri paesi. Era ancora Saracena, Saracena è uno dei paesi più interessanti dal punto di vista urbanistico, proprio perché il suo centro storico è figlio di una cultura araba che poi noi vedremo attraverso delle immagini che vi faccio vedere. Era ancora Palizzi, così come era raffigurata in età che vanno dalla fine del 700 ai primi dell'800. Ed ancora il rapporto, ci troviamo a Scilla, in cui attraverso queste immagini vedete il rapporto tra le comunità e il territorio, il rapporto tra la comunità e il territorio è un rapporto molto forte, un rapporto che poi si esplicita attraverso un accarezzamento del territorio. I nostri territori, i nostri paesaggi venivano accarezzati dai nostri avi, che lavoravano, che li proteggevano, che li curavano, non è un caso che poi oggi si verificano frane e quant'altro. Noi abbiamo rotto il rapporto con i nostri territori e rompendo il rapporto con i nostri territori, rompiamo il rapporto con le nostre architetture e con le nostre città. È chiaro questo, no? La Calabria è una regione che è stata fortemente impressa dal punto di vista urbanistico e architettonico, oltre che sotto altri aspetti dai terremoti. I terremoti ovviamente hanno stravolto le nostre architetture e come vi dicevo prima le hanno rese moderne. Quindi voi camminando nei paesi colpiti dai terremoti camminate su strade urbanisticamente vecchie di 100 anni, ma guardate architetture che sono nuove di 150-200 e che in alcuni casi sono state rasa al suolo, ma il discorso è quasi complica. Le nuove città, le new town dei primi dell'Ottocento, così come quelle di oggi Cavallerizzo non sono spesso new town per motivi legati all'impraticabilità delle vecchie, ma per motivi economici. Cioè Filadelfia è stata costruita cancellando il paese di Castelmonando perché bisognava vendere al feudatario di turno tutti i terreni su cui poi sono state costruite le città, le strade e quant'altro. Quindi voglio dire che ci sono situazioni anche molto complesse, così come quelle di Cavallerizzo. Cavallerizzo è una città che viene giù nel Cosentino per una frana causata dalla modernità e dalla cementificazione, ma la new town che è una città aberrante perché l'architetto che l'ha costruita non ha capito niente, ha realizzato la città da mille e una notte cercando di rienterpretare le chitonie che non sono state rienterpretate per niente, con volte curve, volte a botte e quant'altro che non si sposano con la nostra tradizione, dando una colorazione bianca. Voi da Torano guardate la nuova Cavallerizzo e vi rendete conto che è una città che con la nostra cultura e con il nostro territorio non ha niente a che vedere. Quindi città comunque di una certa bellezza, anche di una certa organizzazione come per esempio Filadelfia, è una città con piazza centrale, è una città che è urbanisticamente antisismica, quindi se ci dovesse essere un terremoto le case cadono su se stesse e non vanno ad invadere la struttura vicina, quindi è una città che presenta una logica anche antisismica dal punto di vista urbanistico, con tutto un ragionamento importante che può essere quello relativo alle case baraccate, cioè le case sono costruite con intelaiaturesismiche proprio per difendersi meglio dai terremoti e quant'altro. Quindi vedete come lo scenario si amplia e quanto io non sia in grado ovviamente in 20 minuti di tracciarne un percorso, ma che comunque diventa importante. Una cosa è certa, che questi paesi, come avete visto, si sono mantenuti tali fino agli anni 50. Qua siamo in un paese a Brescia del Crotonese, San Nicola dell'Alto ed ancora Scalea, guardate immagini di Scalea prima della cementificazione degli anni 70, quando ancora vedete la città spiccava su una pianura anche di grande bellezza, vado avanti, ed ancora Rocca Bernarda, Belvedere in questo caso, mi sembra il paese che sta, il balcone tra i due mari, Tiriolo, in una dimensione di grande bellezza di grande partecipazione. I nostri paesi erano pieni di gente perché erano stati costruiti per la gente, non per andare a dormire, perché la gente viveva nei paesi in una dimensione ovviamente di povertà e qua bisognerebbe fare un ragionamento ancora molto più ampio, magari possiamo organizzare qualcosa, che cos'è la povertà e che cos'è la ricchezza, che cos'è la bellezza? La bellezza è questa architettura, l'architettura che avete qui sulla piazza, quella struttura che sta per cadere o la bellezza sta per esempio in una casa casupola che ha una sua dimensione culturale di tenerezza, di semplicità? Che cos'è la povertà? È gente povera quella? O è gente ricca di valori? Ricordate che in quella dimensione c'era il sarto che sapeva cucire, il coltadino che sapeva leggere il tempo, l'artigiano che sapeva interpretare i materiali e trasformarli. Oggi noi stiamo andando verso una dimensione di apparente ricchezza ma di una grandissima povertà, perché nessuno sa fare più niente. La Calabria deve essere recuperata sotto questo aspetto, sull'aspetto delle idee, non abbiamo più idee se non quelle relative al capire in quale supermercato c'è uno sconto di provole e salami. Quando questo tipo di idee e questo tipo di ricchezza non ci appartiene più. E qua ovviamente non mi addentro in una problematica antropologica, poi rischierei di andare oltre, forse in una dimensione anche complessa in questo breve momento da spiegare. Una cosa è certa, qua per esempio Guardavalle è una città di grande dimensione popolare, al di là di quello che è l'aspetto di queste architetture, dove però vedete c'è una dimensione anche molto bella per quello che riguarda la compartecipazione, la strada. Le strade una volta erano le stanze all'aperto, dove la gente si confrontava, viveva, si arricchiva, scambiava informazioni. La fontana, cioè il rapporto con la fontana, sono immagini su cui veramente potremmo stare qui un sacco per parlarne. Il rapporto con i bambini, i bambini non hanno più un rapporto con i nostri paesi, tutti noi confiniamo i bambini ormai nelle nostre case, esplose nelle periferie, dove ovviamente addirittura per chiamare il ragazzo che sta al di là della cancellata si mandano la chatta e quant'altro. Quindi la dimensione popolare dell'architettura viene ad essere cancellata da sistemi molto complessi. Il discorso delle processioni, la protezione del territorio. I paesi fino agli anni 50 erano quelli che potete vedere in queste immagini, al di là ovviamente di quella che poteva essere definita un po' la povertà anche delle architetture, ma uno scambio compartecipato della gente che accosta questi paesi ai presepi, metaforicamente. Una sorta di dipensione anche molto bella e di di forte originalità. Le fiere, le città e le fiere, il rapporto per esempio con lo scambio, con la vendita del bestiame, dei prodotti etc., che dava una dimensione veramente molto diversa. Qua siamo a Cittadella del Capo, con architetture colte davanti e poi la dimensione non fortemente urbanizzata della parte retrostante, è ancora Soverato, una città di grande bellezza, le quattro Soverato che oggi sono trasformate in una sola Soverato, che però nella parte marina presentava anche delle articolazioni anche architettonicamente urbanistiche anche molto belle e vedremo anche qualcosa di diverso. Poi che cosa succede? Dagli anni 50 in poi il processo di urbanizzazione delle coste si comincia a costruire in prossimità delle stazioncine ferroviarie, che sono state impostate tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, in una dimensione un po' di inizio, esplosione di un rapporto con un nuovo concetto di città. Guardate queste immagini, qua siamo nella Soverato già degli anni 60-70, ma vi faccio vedere quella che era la costa per esempio di Palizzi, prima della cementificazione che è avvenuta che è qualcosa di aberrante. La nostra costa era di grande bellezza, così come, guardate queste immagini, qua siamo a Fiumefreddo Bruzio, cioè il paese arroccato con tutto il paesaggio nella parte appunto retrostante che esprime una dimensione quasi poetica e veramente di grande bellezza. Ma anche le cittadine che sono state costruite sulla costa nei primi anni del Novecento hanno una loro dimensione di bellezza, di garbo, di uso dei materiali, di un'urbanistica che forse ancora rifletteva e aveva una sua dimensione. qua siamo a Siderno, c'è una dimensione della casa, della strada rettilinea, ovviamente sì, che cambia tutta l'articolazione urbanistica, però con garbo. in un garbo in cui si riscontra ancora una sorta di vita compartecipativa, la strada ovviamente non trafficata come oggi era luogo di scambio, di luogo ancora di confronto, qui addirittura delle persone che giocano a carte davanti ad un bar e quant'altro, anche nella città nuova, nella Brancaleone nuova in questo caso. Dagli anni Sessanta in poi, tutto questo ovviamente ha portato comunque al mantenimento, era questo il concetto che vi volevo dire, spesso per il travaso della popolazione lungo le coste, il mantenimento quasi paradossale degli abitati dell'interno, che in alcuni casi fino agli anni Sessanta, Settanta si sono preservati, proprio perché abbandonati. La stessa cosa più o meno si è verificata nella parte vecchia di Scalea, guardate che bella architettura e che bella struttura, questa non ci interessa, nella parte alta di Morano ed ancora qua siamo a paese Oriolo, paesi di grande spettacolarità, fatta eccezione come in questo caso di, me le ricordo ora tutti insieme, qua siamo nell'area grecanica, il paese ora non lo ricordo quale sia, ed ancora Stromboli ed ancora Bova, il rapporto con le pietre e la roccia, di grande bellezza come vi dicevo prima e quasi con partecipazione con l'architettura. Anche un'altra immagine di Bova, vedete una città che ancora oggi si articola intorno a quegli elementi simbolici, così come, no, qua stiamo andando, ah ok, e qua è successo un casino, perché? No, 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 forse sta andando da solo ora, in una dimensione come vi dicevo di compartecipazione con il territorio, con i luoghi, con i materiali costruttivi che sono anche figli del paesaggio stesso e del territorio, come in questo caso per esempio Palizzi, penso che comunque siano saltate delle immagini, perché non… Verzino con tutto il sistema degli aggrottamenti che sta nella parte bassa appunto dell'abitato che riflette un'altra dimensione di vita, ovviamente non più oggi riproponibile se non attraverso delle opere di architetture che dovrebbero essere specifiche per questi luoghi. Ed ancora il rapporto con i luoghi e con la roccia, qua per esempio siamo a Gerace, la stessa Penta d'Attilo, paese abbandonato, ma che riflette sempre questo rapporto con il luogo. Ed ancora Pietra Paola, vedete il masso come elemento protettivo, ma anche ricapitolante tutta la dimensione urbana. Penso abbiamo perso però tutto un… perché io avevo costruito un ragionamento che purtroppo non posso fare più. il rapporto quindi tra i paesi e le rocce, il rapporto invece con la cultura islamica, in questo caso vedete paesi che riflettono una loro dimensione, l'arco stradale è un elemento che fortemente si rapporta a questo tipo di cultura. Qua siamo a Belmonte ed ancora archi stradali a Belvedere, siamo a Guardavalle, paesi che ancora mantengono questa loro dimensione, tra cui anche per esempio qui Paola ed ancora Davoli, fortemente contaminata dalla cultura islamica, che viene ad essere evidenziata, vedete, proprio da questi elementini, si chiamano archetti sporgenti che si riscontrano solo ed esclusivamente in questi paesi dove è attecchita questa cultura. Per esempio Monasterace, tutta la parte dello Ionio, anche Catanzarese, a scendere sino a Palizzi, come vi dicevo poc'anzi. Forse sono immagini pesanti che io vado avanti… ecco, la stessa Cosenza, Cosenza è una città fortemente impressa dalla cultura islamica, il centro storico di Cosenza all'epoca era stato studiato prima della sua prematura scomparsa da me e da Enrico Guidoni che assieme a Crotone aveva visto appunto elementi fortemente legati a questa dimensione culturale non solo nei piccoli centri ma anche per esempio nelle città di più grossa dimensione, tra cui la stessa Cosenza, la stessa Crotone, ma la stessa Reggio, prima ovviamente del terremoto del 1783 che ha ovviamente cambiato tutto l'assetto urbano della città stessa e che probabilmente qua vedremo in alcune immagini. E qui ancora Saracena, vedete questa dimensione dei Vutan, è così che si chiamano, cioè delle architetture che vanno a definire aspetti anche di grande bellezza, ancora Saracena, il sistema urbanistico, vedete le strutture dentellate, l'articolazione dentellata delle architetture esprime proprio la cultura di cui parlavo precedentemente, qui il discorso sarebbe molto complesso da fare ma prendetela per buona. Ed ancora Belvedere Marittimo con le sue strutture molto articolate dal punto di vista architettonico, il cosiddetto paese delle scale assieme a Verbicaro. Ed ancora paesi di grande bellezza come Scalea e San Biase, per esempio San Biase e Nicaste, il centro storico di San Biase è un centro storico fortemente impresso da questa cultura del vicolo, dello spazio privato, il cosiddetto vaglio, lo spazio in cui le comunità si ritrovano a condividere gli stessi momenti di compartecipazione. E poi situazioni anche di grande bellezza come per esempio Palizzi in cui si incrociano architetture e urbanistiche islamiche con architetture ed urbanistiche grecaniche come in questo caso ed altre manifestazioni tra cui la roccia, era l'immagine precedentemente, qui siamo ancora a Monasterace, vedete anche se intonacate le architetture presentano questa dimensione di grande bellezza. Guardavalle, il centro storico di Guardavalle e qua ovviamente il titolo della, penso si sposi molto bene, Paglia, Fango, Paglia, Pietre, cioè in una lettura un po' compartecipata, lunga, ma penso, mi auguro quantomeno esplicitante i contenuti. Gli arabismi ci sono, questa per esempio è una finestra a Scalea che ovviamente penso sia anche nell'architettura colta espressione della cultura di cui vi parlavo precedentemente. ed ancora tutta la parte che riguarda il materiale costruttivo per eccellenza del 35% degli abitati storici calabresi che è la terra cruda e qui il rapporto con la Paglia, un'architettura che è stata studiata alla fine del secolo scorso, possiamo dire, da me e dal professor Cavalcanti che mette in evidenza addirittura quanto l'architettura in terra cruda sia stata importante non solo per la dimensione popolare ma anche per la dimensione colta. Questo per esempio è un palazzetto a Dasà realizzato in terra cruda, un palazzetto a Soriano distrutto da un amministratore che non ha capito il valore dello stesso e ancora a Brattirò di Drapia, Casupole di grande bellezza che ancora oggi ovviamente esprimono in parte valori sostanzialmente in via di scomparsa definitiva. muri di cinta a Campo Calabro, alla Mezzia, addirittura architetture del lavoro realizzate in terra cruda, forni all'interno e all'esterno che evidenziano proprio una complessità culturale che sostanzialmente possiamo dire almeno architettonicamente, come vi dicevo prima, completamente aperse e casolari, quindi il rapporto con il territorio di cui parlavo precedentemente. In un divenire di architetture in cui il rapporto con i materiali costruttivi del posto è molto forte e che presentano anche delle articolazioni veramente molto differenziate. Tutto ciò ovviamente si innesta al percorso delle architetture colte, di cui oggi ovviamente non parliamo perché il discorso sarebbe molto complesso, che riguardano ovviamente castelli, che riguardano edifici industriali, sia in chiave colta che in popolare, nel complesso per esempio delle chiese e dei monasteri, i palazzi, in un ragionamento di compartecipazione, nel senso che il colto aiuta il popolare e il popolare aiuta il colto, e molto spesso il popolare aiuta il colto, perché i palazzi che avete visto, le chiese che avete visto, è come se fossero figli anche di una dimensione popolare, perché sostanzialmente i capimastri spesso, soprattutto quando le chiese e i palazzi non erano di grande importanza, perché in quel caso venivano commissionati ad architetti che venivano quasi sempre dal napoletano o dal messinese, venivano ad essere realizzati dagli stessi capomastri locali che imprimevano un volto popolare anche ad un'architettura colta. Tutto questo sistema, questo mondo complesso, praticamente viene ad essere sconquassato dal processo della modernizzazione che ovviamente ha invaso il litorale, ha reso i paesi tutti uguali, quindi le architetture di fango, di paglia e di pietra oggi non esistono più, questo può essere qualsiasi marina di qualsiasi paese del nostro litorale. In questo caso siamo a Catanzaroli. Ed ancora tutto il processo di costruzione degli anni 70, guardate il rapporto tra la scalea iniziale a sinistra e la scalea di destra con tutto il processo di cementificazione, le autostrade che ovviamente sono importanti, però il processo di uso anche di materiali che non sono più ovviamente ecologici come per esempio l'eternico, siamo ad Acquaro, un paese in terra cruda che viene ad essere trasformato in un accampamento. Le pietre ci sono qua, perché pietre, fango e paglia, ma sono le pietre di questo marmista che ovviamente va a deturpare un monumento importante che è il complesso domenicano barocco del Segetto. Ed ancora ovviamente questo taglio volevo che venisse anche dato, è quello che sto cercando di diffondere anche nella nostra regione, tra gli studenti e tra la nuova generazione, questo è uno dei paesi, i borghi più belli d'Italia, Bova. Tanto per intenderci, vedete, realizzato con questi materiali. Ed ancora maierato, se il paese poi viene giù per via di una frana è perché su una struttura dove insistono case di terra che hanno un peso relativo, viene ad essere costruito un palazzo che guardate caso è il palazzo del comune, cioè non è il palazzo privato, eccetera. Ed ancora le pietre qua esistono, qua siamo a Davoli, però guardate che scempio che ha fatto questo signore, lavorando peraltro su un elemento molto importante, vedete questo è un angolo smussato, è un esempio di architettura islamica, però è stato reinterpretato con colorazioni nuove e quant'altro. Benvenuti a Dasà, il paese ovviamente della terra cruda dove le case di terra ovviamente sono diventate quello che vedete. Ed ancora il centro storico di Nicastro, qui siamo in un paese castro libero mi pare, della Bresila, vedete le case strozzate, qui Petiglia Policastro, una casa che veniva ad essere la stessa di quella che vedete sulla sinistra, ovviamente trasformata da nuove forme e colori. Non ci torniamo più in Calabria perché ovviamente i prezzi sono alti e perché ovviamente non c'è più nulla da vedere, noi stiamo adeguandoci ad un processo di modernizzazione che sta deturpando le nostre architetture e i nostri luoghi, sta deturpando il sistema dei materiali ma anche ovviamente degli spazi. I paesi abbandonati, qua ci sarebbe un altro ragionamento importante, più volte portato avanti da Vito Teti e guardate il rapporto tra l'immagine e la scelta apposta, tra le pietre, cioè le pietre di Brancaleone Vecchio e quello che è il paese ovviamente sulla costa, ovviamente qua ci sono stati problemi molto complessi però è una situazione che ovviamente viene ad essere un po' riproposta su anche altri litorali. Queste sono le nuove architetture popolari della nostra regione, siamo ad Africo Nuovo, vedete dove tutto quel sistema di grande bellezza, di rapporto con il territorio, con i materiali, con la vivibilità, è ovvio che bisogna inventarsi qualche cosa perché forse è un po' difficile andare a rivivere a Rogudi dove le donne legavano i bambini con delle cinte per non farle cadere nel burrone, ma qualcosa ovviamente bisogna inventarsi prima di arrivare a questo tipo di scempio, questa è la nuova Rogudi che è una tristezza infinita e quindi vedete si perde tutto, si perdono i colori, si perde il rapporto col paesaggio, si perdono altre architetture che possono essere anche le colorazioni delle barche, i campi di grano, il colore delle case che riprende la terra dei luoghi, le processioni che non avvengono più nei nostri spazi, ma io per esempio ho scoperto che il carnevale e probabilmente quanto prima anche le processioni vengono ad essere svolte nei centri commerciali, il carnevale già si svolge, per esempio nel Vibo Center i paesi vengono ad essere svuotati perché il carnevale si festeggia appunto nei nuovi luoghi, si perdono anche le pietre, qua ovviamente del granito di Serra San Bruno non rimane più niente perché non c'è più nessuno in grado di lavorarlo e di trasformarlo e quindi quella Calabria di una volta in cui peraltro l'architettura si univa ad altre forme culturali, l'alimentazione, la religione e quant'altro, qui il discorso anche in questo caso si diventerebbe molto lungo, è una Calabria che si sta perdendo così come si sta perdendo la dimensione sacrale, la protezione degli abitati attraverso degli elementi simbolici che hanno come obiettivo quello di preservare l'abitato dalle forze del negativo tra cui anche per esempio i segni apotropaici e quant'altro, le processioni, i fuochi d'artificio che dovrebbero tenere lontano attraverso lo scoppio, questo forse ancora si manifesta ma forse perché non si riesce a capire per quale motivo tutto ciò avviene. Il campanile che ha un elemento di protezione, le case che guardano il campanile sono case protette, per questo tutte le case sono raggruppate intorno al campanile. E l'uso dei materiali, dalla terra alle pietre, vedete il discorso bizantino da una parte e il discorso islamico dall'altra, per esempio Monte Rosso Calabria e Belmonte stanno tutti e due su un cucuzzolo, però quella è la forma urbana di Monte Rosso e questa è di Belmonte, quindi vuol dire che culturalmente hanno una dimensione completamente diversa e quindi si va verso le nuove città, le nuove architetture, le nuove necessità che sono quelle non più di remare, non più di zappare ma di gonfiarsi i muscoli, ovviamente andando in palestra, ma è una cosa. E poi qui si apre un discorso molto complesso che è quello della musealizzazione, vi chiedo soltanto altri 5 minuti di attenzione, cioè del ridurre la cultura in un museo. Negli anni 70, anni 80, il professor Cavalcanti è stato uno degli iniziatori del processo ovviamente di musealizzazione, però di un processo di musealizzazione corretto della cultura. Anche mio padre ha realizzato a Monte Rosso il quinto museo della civiltà contadina e artigiana. Oggi, da un'indagine fatta sempre con Cavalcanti, i musei del folklore sono 250, ridotti però nello Stato così come voi pensate. Cioè noi crediamo che quella cultura che non esiste più può essere musealizzata, cristallizzata, ma cristallizzata anche in male modo. Ma non solo i musei, anche le sagre. Io ho censito 2700 sagre tre anni fa nella nostra regione dove si cercano di valorizzare prodotti che però poi non si ritrovano sul banco, per esempio il mese dopo, dopo due mesi. Il pane di castagna in questo luogo non si può mangiare perché la manifestazione finisce il giorno che vedete qui. E poi tutta la parte che riguarda la dimensione presepiale, cioè noi pensiamo attraverso i presepi viventi di risolvere un problema di grande complessità. Il presepe, qui il discorso è anche in questo caso molto complesso, ha un altro obiettivo che è quello sicuramente di riunire la comunità, di far comunicare alla comunità dei valori, ma non possiamo pretendere un riuso degli abitati attraverso delle forme presepiali che sono sia viventi, mascherando i bambini così come vedete in questa dimensione, né tantomeno ricostruendo gli abitati attraverso un po' delle miniature. Oggi in Calabria sono numerosi gli artisti che costruiscono presepi e che spesso interpretano male i presepi perché vedete vanno a deturpare anche l'architettura quando gli artisti non sono importanti, ma non mi addentro in questa problematica perché è una problematica molto complessa. Una cosa che voglio mettere in evidenza è che il riuso degli abitati può in qualche maniera essere riecheggiato da una trasformazione in presepi anche dal punto di vista artistico, ma il centro storico di Vibo Valencia non è questo, è chiaro no? E allora ci si apre verso una dimensione diversa che è quella dei musei laboratorio e quindi vado alla fine mettendo in evidenza la necessità che i musei possano essere luoghi attraverso cui il paese può essere rigenerato insegnando alla comunità e ai bambini alcuni valori, quindi andando verso un processo che possa essere considerato come un processo di educazione al patrimonio, oltre che ovviamente di preservazione di alcuni oggetti che non vengono più utilizzati. Quindi fare in modo che il paese, da qui le pietre, vedete il paese è sempre il titolo del mio intervento, le pietre di una macina che rientra in un museo dove però il museo diventa un luogo di attrazione, un luogo di comunicazione di alcuni valori tra cui in questo caso anche la musica. Il rapporto con gli studenti affinché gli studenti possano vedere che cosa sia un museo, che cosa vuol dire educare al patrimonio, portare gli studenti anche fuori facendo vedere gli scempi e anche nello stesso tempo le bellezze in alcuni casi preservate. Il rapporto con la comunità cercando di spiegare, no io sto facendo anche questo, San Ginetando è una manifestazione organizzata a San Ginetto l'anno scorso in cui ho portato un gruppo di persone a spiegare l'architettura popolare e a far capire i valori della stessa. Puntando su quelli che sono gli elementi importanti dei nostri paesi, fate attenzione che queste immagini non sono slegate al titolo del mio intervento. Quando si parla di architettura popolare si parla anche di questo, perché l'architettura non può essere slegata dalla dimensione religiosa, dalla dimensione dell'alimentazione e di quant'altro. Guardate queste immagini, fate attenzione, quindi noi dobbiamo andare verso paesi ed architetture che siano in grado di leggere il passato, reinterpretandolo però perché è impensabile oggi riproporre il presepe vivente. Questa è la tradizione che viene ad essere reinterpretata in Olanda, dove costumi popolari diventano elementi di attrazione per uno stilista, che usa il passato per riproporre modelli nuovi nel presente. La stessa cosa che si fa per esempio nella comunità Goel, nella Locride, dove la tradizione viene ad essere ripresa per fare dei capi di abbigliamento odierni e non nel mettere una studentessa o una bambina o una ragazza su un palco durante l'estate, vestirla in costume tradizionale dove il suo corpo non corrisponde al corpo ovviamente di una donna di cento anni prima, in una sorta di impomatazione della giovane per riproporre qualche cosa che forse oggi non esiste più. E quindi le immagini che scorrono, sparlano da sole, cioè cercare di portare anche i bambini e i giovani verso una dimensione che possa essere una dimensione in cui vedete la tradizione ha come una grande importanza, cioè ci può dare dei dettami affinché il nostro presente possa essere un presente con maggiori valori e con forse un rapporto anche con i luoghi. Queste sono immagini di tesi di laurea attraverso cui si cerca di trasmettere alcune specificità che ovviamente in questo caso abbracciano la dimensione anche degli arbresci. Concludo con queste due ultime immagini che sono un po' la ricapitolazione forse di quello che ho cercato di esprimere. I nostri paesi e le nostre architetture non possono essere cristallizzate, non possono essere musealizzate, ma devono essere lette in base a quello che esprimono oggi relativamente alle nostre necessità, per esempio si parla di sostenibilità, quindi i materiali tradizionali che possono essere utilizzati ancora oggi anche nel nuovo per interpretare dei nuovi luoghi, dei nuovi spazi che però abbiano come base forse dettami del passato. Quello che in questo momento sto cercando di proporre nelle mie relazioni e nel rapporto anche con la ricerca scientifica che viene ad essere proposta all'estero è la dimensione del co-housing. Oggi si parla tanto di co-housing, cioè la coabitazione, ma la coabitazione non è altro che le rughe di un tempo, quindi riproporre nei nostri paesi magari degli spazi a destinare alle nuove generazioni affinché in questi spazi forme di co-housing e forme di co-working possono in qualche maniera supplire queste deficienze, penso possa essere uno spazio interessante più che i paesi albergo, cioè trasformare questo sistema culturale in un grande albergo mi sembra una cosa veramente deprimente. Ed è quello che stiamo cercando di mettere in evidenza in questo difficile centro sulle culture dell'abitare che è un centro interdipartimentale presso l'Università della Calabria, addirittura in un dipartimento tecnico che è quello di ingegneria civile dove per la prima volta si parla di culture dell'abitare, perché io ritengo che l'insegnamento anche della storia, dei valori tecnici debba partire prima dalla considerazione degli aspetti che molto frettolosamente ho cercato di comunicare. Vi ringrazio, tutto questo lo ritrovate nei libri della Rubettina. Grazie mille all'architetto Chimirri per questa bellissima lezione, ci sarebbero molte cose da dire, tra l'altro non avevo visto prima Emilio, pensavo ad Emilio Leo, però non lo faccio parlare perché altrimenti finiamo il festival con questa lezione, ma il festival continua adesso praticamente con l'incontro con Sonia Serazzi qua ai giardini di Palazzo Marasco. Volevo anche avvisarvi che sempre adesso in questo spazio ci sarà un incontro di filosofia per bambini tenuto dal nostro bravissimo Massimo Iritano. Grazie ancora e buon proseguimento. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti